Tra l'altro c'è sta Ilari Blasi Ha visto che roba, che strodo? Mazza, mazza però eh Taglia, taglia Oddio taglia, insomma, non è che te lo meriteresti proprio, a me mi dispiace, qua stiamo tutti in fila Eh, perché ha dovuto far così? Eh, perché quando uno si sente, si sente, vabbè, sarà Comunque per dire, voglio, voglio semplicemente dire che stai in un paese dove hanno delle cose serie Deve essere rispettuta eccetera eccetera, vabbè è saltato un po' di fila, va bene Comunque, quanto è piccolo il mondo, pensando nello stesso momento in cui c'è Ilari Blasi Che poi, ripeto, io non la seguo, non è che a me ne frega un cazzo Però, però, avrei fatto in maniera, in maniera diversa ecco Io personalmente, non voglio che questo nasca un dissing o una cosa Però se stiamo tutti quanti in fila Rispettammi le file, perché alla fine siamo sempre tutti quanti umani, eh